Musica Salve a tutti cari telespettatori, volevamo scusarci per il nostro ritardo nella pubblicazione dei nostri video Però abbiamo avuto seri problemi logistici e tecnici, quindi ripeto ancora ci scusiamo per questo ritardo E presto comunque uscirà anche l'Organic Edition che è veramente un'edizione speciale e non perdetela Grazie e a presto Buongiorno, grazie Luca per la linea, siamo qui in diretta da Montegrotto a Balotelli, insomma da delle colline E siamo, guardate c'è un indigena che sta facendo delle pratiche tribali per propiziare il nuovo anno e le piogge E sperare che così bene non sia troppo rigido E abbiamo qui un esemplare di scolastica con un teschio di una povera bestia Capra Che ha sbranato violentemente nelle ore precedenti Sì è vero, ok la metto Siamo qui nell'ambito La mandibola inferiore è stata usata come arma Bene, io devo andare perché il gruppo sta andando avanti Molto bene, come potete vedere siamo qui nell'ambito di una meravigliosa Ebbene ci sono arrivato anch'io in questo servizio Oh Luca, grazie a tutti Salve a tutti, scolastica è dovuta scappare Ben ritrovato Luca Poi ho il nostro caprino, sì caprino insomma Come sta andando? Ma molto bene, avete già visto Anna molto attiva, molto volentieri Osa Che con molta grinta e forza sta facendo quello che ci è stato richiesto Cioè rompere un po' di pietre come potete vedere qua Guardate le mie scarpe La Mattilla del Galvano Meravigliosa braccia Un applauso nel braccio della Mattilla Guardate che meravigliosa roccia No questa è più bella Guarda qui, guarda qui Anzi no, la Mattilla ci dice di guardare questa Non si chiama Molto bene, allora Noi Mi scuso ma Dobbiamo, il lavoro ci chiama Quindi direi lì nello studio Buona salute di Caprino Speciale appesato E a un prossimo servizio in diretta Dal mondo selvaggio